The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Andrea Catalano, solution architect per il settore pubblico in AWS Italia. Se avete domande durante il webinar, il webinar potete scriverle nella sezione domande. Il vostro feedback è molto importante per noi per migliorare la nostra esperienza. È proprio per questo che alla fine della sessione inizierà il sondaggio dove potrete indicare se desiderate una prova gratuita su AWS. Benvenuti al webinar di oggi, possiamo partire. Bene, grazie Maria Beatrice. Sono Stefano Mainetti. Sono il responsabile scientifico dell'osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. Ho condiviso ora lo schermo, ho una presentazione e il mio compito è quello di introdurre l'argomento. Quindi dare uno scenario che dimostri con la finalità di dimostrare cosa si stia oggi facendo in Italia in termini di modernizzazione applicativa e far comprendere quanto questo sia importante, soprattutto nel momento in cui si è affermato definitivamente il paradigma del cloud computing. Allora, una slide iniziale insomma per introdurre la tematica e per dare anche il giusto senso di urgenza. Oggi noi stiamo affrontando la trasformazione digitale, questo sotto gli occhi di tutti lo stiamo quotidianamente vivendo e ci sono delle piattaforme che hanno rapido questa trasformazione. Perché? Perché hanno un impatto significativo sulle persone, sulla modalità con cui le persone consumano informazioni. Parliamo del web. Il web ha vent'anni ormai di storia. Ovviamente abbiamo molti di più come invenzione, ma se prendiamo il periodo dell'economico, i primi anni 2000, sono vent'anni che questa trasformazione importante digitale stenta ad arrivare nel nostro paese. Però effettivamente nel tempo, anche nel settore non solo delle aziende, ma anche nella pubblica amministrazione, nel tempo si sono affrontati un insieme di servizi erogati via web e dall'altra parte hanno trovato sicuramente un'esigenza crescente di consumo da parte delle persone. E poi mobile. Oggi le persone sono mobile first e poi vedremo come si sta trasformando la pubblica amministrazione proprio su questa tematica. Il cloud computing, ecco, lo mettiamo al centro perché è la piattaforma che oggi ci permetterà di entrare nel merito della tematica di come modernizzare le applicazioni per utilizzare al massimo le potenzialità del cloud computing, sempre in tema di trasformazione digitale, i dati, l'analisi dei dati, i big data e poi tutto il mondo delle smart cities. Ecco, queste sono le piattaforme su cui oggi noi siamo chiamati a giocare una partita di innovazione, di trasformazione dentro le imprese e gli enti della pubblica amministrazione. Teniamo proprio presente che non possiamo ritenere che questo sia un punto d'arrivo, ma è una piattaforma, sono insieme di piattaforme abilitanti, ma se dovessimo andare a vedere il percorso in atto è con l'urgenza. Ognuna di queste piattaforme oggi sta incorporando nuove evoluzioni importanti, quando parliamo di big data e di strumenti analitici parliamo ormai di artificial intelligence, quando parliamo di cloud computing parliamo di aging, quando parliamo di mobile web parliamo di augmented virtual reality e poi ancora continuano ad arrivare un insieme di tecnologie abilitanti che verranno assorbiti da queste piattaforme, ma quindi non possiamo concentrarci e andare al ritmo con cui abbiamo adottato la trasformazione digitale partendo dal web, cioè negli ultimi vent'anni, dobbiamo effettivamente avere un senso maggiore di urgenza. E proviamo un po' a vedere cosa sta facendo la pubblica amministrazione. Beh, se prendiamo il piano trennale della pubblica amministrazione 2020-2022, è un piano aggiornato, interessante, qui disegno un modello strategico, cioè è riportato, preso direttamente dal documento, un modello strategico per l'evoluzione dei sistemi informati, vedete la parola dati, la parola piattaforma, ma ci ritroviamo con le foundations su cui abbiamo appena adesso discusso. E se andiamo a vedere i principi guida, anche qui troviamo delle importanti dichiarazioni, quindi effettivamente il piano trennale prevede che digital e mobile first siano la nostra guida. E quindi è qui che ovviamente digitaremo anche questo, no? È fondamentale, stavo vedendo quanti dei servizi oggi ricredono l'utilizzo della speed, e quindi tutte le nostre applicazioni devono essere pensate by design, con la capacità di gestire un'unica identità digitale. Cloud first, quindi ecco perché il cloud è importante, è centrale in tutto il ragionamento. E così via, adesso non entriamo nei dettagli di queste voci, però servizi inclusivi, dati pubblici, interoperabili by design, insomma dobbiamo costruire un portafoglio applicativo che sia interoperabile. Non è più tollerabile, almeno in questo piano è dichiarato apertamente, anche le dichiarazioni politiche vanno in quella direzione, non è più tollerabile che sia il cittadino a fare da middleware, portando le informazioni attraverso i vari servizi applicativi, ma è l'ente stesso che una volta autenticato il cittadino, deve rendere questi servizi interoperabili, le informazioni che si scambiano in modo automatico e orchestrato all'interno del portafoglio applicativo. Sicurezza e privacy by design, user centric, data driven, agile, once only, eccolo qua, once only, trasfrontaliero by design, codice aperto. Insomma, se effettivamente ci prendiamo come punto di riferimento questo piano e vediamo l'intervallo temporale 2020-2022, il senso d'urgenza credo sia forte, perché abbiamo questi tre anni e dobbiamo agire immediatamente. E allora vediamo un po' cosa sta accadendo. E qui prendo la ricerca di cui sono responsabile scientifico. Vedete, abbiamo iniziato nel 2010, dieci anni che analizziamo come le aziende, gli enti della pubblica amministrazione, le PMI italiane adottano il cloud computing. Insomma, è stato un percorso accidentato, faticoso. Vedete quanti titoli? Questi sono i titoli dei nostri convegni. 2012, cloud economy, ultima chiamata. Insomma, era già evidente che la piattaforma del cloud fosse la piattaforma su cui abilitare la vera trasformazione digitale. Eravamo in 2012, guardate quanto tempo ancora, 2014, si fa sul serio. È semplice ma non banale. Andiamo avanti. È arrivata l'età della ragione. Insomma, ogni anno c'erano dei motivi anche per procrastinare alcune scelte importanti. È quello di quest'anno. Tra l'altro facciamo proprio il convegno pubblico, divulgheremo i dati. Ogni anno misuriamo i dati di mercato, di adozione del cloud computing da parte, abbiamo detto, delle grandi imprese, della pubblica amministrazione, delle PMI. Quest'anno il titolo che abbiamo scelto è che un cambio di passo dovuto all'emergenza. Quindi sì, nel 2020 c'è stato un cambio di passo, anticipo qualche dato, la crescita è importante, ma la vera sfida adesso. Quindi, avendo accumulato un ritardo nella modernizzazione applicativa, che adesso argomenterò, ecco che pur avendo fatto un cambio di passo, la sfida vera adesso cosa vuol dire? Un conto è attivare un servizio da consumare in streaming di software as a service per fare, che ne so, la didattica a distanza. Un conto invece è rendere interoperabili tutte le applicazioni sottostante un processo formativo, dall'iscrizione, la gestione della classe, la gestione dei gruppi di lavoro, la gestione degli elaborati, la gestione delle prove, degli esami, eccetera, eccetera. Cioè, ben diverso è invece agire in termini di integrazione e modernizzazione applicativa. Ok, vediamo un po' i numeri. Il valore, questo è il valore che misuriamo ogni anno del mercato cloud in Italia. Vedete, comunque cresce in modo interessante. Se andiamo a prendere il mercato del cloud pubblico, poi vedete che lo classifichiamo, andiamo a misurare anche le applicazioni dei virtual private cloud e i progetti di automazione dei data center interni. Nella pubblica amministrazione ci sono delle norme che prevedono proprio per legge che alcune delle informazioni o delle risorse vengano tenute all'interno. Quindi andiamo a misurare tutti i modelli di cloud, anche i modelli di cloud privato, che poi a loro volta fanno leva sui modelli di cloud pubblico, ma prendiamo, concentriamoci sul cloud pubblico. Il modello che è, diciamo, di riferimento. Vedete che il tasso di crescita è un tasso importante, 22, 28, 25. Ecco, quello qui vi anticipo, il dato che daremo, pubblicheremo domani, si misura un'importante ulteriore crescita. Quindi, pur non crescendo in modo significativo gli investimenti informatici fatti dalle imprese italiane, il cloud cresce, cresce a due cifre, l'anno pro, poi il dato che misuriamo nel 2020, misura una crescita ancora più significativa. Quindi, la prima considerazione importante è proprio quella di confermare che questo cambio di passo nell'utilizzare cloud, la piattaforma del cloud, come fattore abilitante della trasformazione digitale, è realmente accaduto. Stiamo parlando delle grandi imprese. Andiamo a vedere, ma perché, cosa c'è nel cloud che mi fa fare questo salto di qualità? Proviamo un secondo a fermarci, a ragionare sui livelli di servizio. Cloud Computing ti offre tutte le piattaforme di infrastruttura, infrastructure as a service, la piattaforma su cui Amazon Web Services ha ovviamente fatto da trendsetter, ha creato addirittura il mercato, quindi piattaforme di computing, di storage, di networking. Oppure si possono consumare i servizi, con l'esempio che dicevo, ma anche questo servizio di webinar lo stiamo consumando in modalità software as a service, dal cloud. Cosa c'è in mezzo? In mezzo c'è la piattaforma, il platform as a service. Ci tengo a soffermarmi un secondo, perché andremo alla fine, soprattutto sarà Andrea, che è Andrea Catalano, che è un solution architect, che dovrà entrare nel merito di andare a far comprendere qual è il valore di questa piattaforma. Ci tengo un attimo a farvi vedere quanto è importante. Quindi zoomiamo in questo strato intermedio. Nella piattaforma noi cosa troviamo? Una vera e propria arsenale, una cassetta degli attrezzi, del cloud, che ci mette a disposizione tutte quelle leve. Vedete, ci concentriamo per un secondo sugli elementi di foundation. Sono tutti quegli elementi fondamentali per poter usare le piattaforme del cloud. Parleremo in particolare, ad esempio, dei containers, ma sicurezza, gli application service e gli strumenti per la gestione dei dati. Abbiamo a fianco degli strumenti di supporto, ad esempio i tool per la gestione dello sviluppo del codice custom che possiamo andare a personalizzare. Sulla destra degli strumenti di integrazione e poi al centro troviamo quelle componenti di servizio che sono proprio quel continuo, l'ho chiamato arsenale, quel continuo insieme di tecnologie che portano la piattaforma ad essere sempre aggiornata allo stato dell'arte nell'offrire la possibilità agli enti di incorporare le tecnologie più moderne per erogare i servizi di trasformazione digitale. e quindi qualora noi volessimo addestrare un chatbot su un particolare servizio che vogliamo erogare di e-government, ecco, quel chatbot sarà già pronto come codice di base dentro una di queste componenti di servizio e dovremo solo addestrarlo per rispondere a quelle particolari domande di dominio su cui verrà interrogato. Insomma, questa è una cassetta degli attrezzi formidabili. Allora, vista l'urgenza, visto il piano 2020-2022 e visto il continuo arrivo di tecnologie innovative iniziamo a riflettere e comprendere quanto utilizzare una piattaforma possa diventare una leva strategica per attuare il piano della trasformazione digitale. Bene, allora, fermato questo primo concetto vediamo un po' i livelli d'adozione, ma questo è così vero anche dai dati, da ciò che misuriamo dal mercato? Allora, qui misuriamo in questo modo, questo è il mercato italiano di public e hybrid cloud diviso per quei tre livelli di servizio, quindi vedete che in verde trovate i tools e i servizi di infrastructure as a service, in arancione trovate in software as a service e poi invece in azzurro trovate gli elementi che abbiamo chiamato di piattaforma. Andiamo a leggere questa matrice. Sull'asse orizzontale troviamo quanto si è speso in questo caso è sempre il dato dell'anno scorso perché quello nuovo lo diamo domani, ma i cambiamenti poi ve li dico a voce. Quanto si è speso nel 2019 in quelli particolari livelli di servizio e sull'asse verticale quello che si prevedeva prevedeva fare nell'anno futuro e quindi la dinamica di crescita. Ecco, vedete che effettivamente l'azzurro anche solo come colpo d'occhio sta proprio nella parte in alto a sinistra. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che è prevista un'adozione crescente e i dati che misuriamo anno per anno ci dimostrano che questo è vero. Quindi effettivamente queste infrastrutture di piattaforma sono fondamentali proprio per abilitare la trasformazione digitale. Insomma, ce lo dice anche il mercato. Ad esempio se andiamo a vedere il container management il container management lo troviamo proprio nella zona più alta insomma è effettivamente al centro dell'attenzione delle aziende che noi andiamo a monitorare. Tenete presente che sono grandi aziende italiane o grandi enti pubblici quindi il campione è un campione in qualche modo deviato perché se andassimo a prendere la media italiana e considerassimo ad esempio le piccole e medie imprese oppure gli enti della pubblica amministrazione locali più piccoli troveremo dati diversi quindi stiamo comunque parlando di un campione di coloro i quali hanno il compito di stracciare in percorso e in effetti questo è proprio il modello che è perseguito dalla pubblica amministrazione cioè se andiamo ad estrarre dal nostro campione i 60 enti pubblici che aderiscono alla nostra ricerca e quindi li stiamo seguendo negli anni ci accorgiamo che il 66% quindi due terzi utilizzano modelli cloud per far cosa ecco vedete che i modelli utilizzati del cloud sono o per realizzare un private data center basato sulle tecnologie del cloud o per costruire dei servizi shared cioè dei servizi che possono essere erogati ad altri enti servizi condivisi appoggiati in loro volta sulla leva del cloud pubblico ecco queste vedete sono le modalità più utilizzate cioè cloud computing viene utilizzato nella pubblica amministrazione in più modelli che fanno leva e erogano servizi condivisi ad altri enti o interni e fanno poi leva sui servizi di piattaforma di cloud pubblico questa è la via e uno shared service tipicamente è concepito pensato da un ente pubblico di dimensioni o di capacità progettuale maggiore poi condiviso con altri enti pubblici in un modello federativo andiamo avanti e seconda importante osservazione abbiamo detto sì le piattaforme si usano terza sarebbe per abbiamo detto cresce e cresce molto bene l'investimento nel cloud computing piattaforme si hanno un interesse prospettico quindi ad oggi queste piattaforme non hanno un elevato livello di utilizzo ma ne hai bisogno ecco questa è la domanda questa è proprio la salve di quest'anno 141 grandi imprese sono andate a chiedergli ma hai bisogno sul tuo parco applicativo che ancora non è migrato in cloud un intervento di quindi 7 su 10 sì ecco questa è un'importante osservazione perché si incontra quindi sia la domanda che l'offerta è un momento importante in cui la trasformazione digitale ci chiede di creare patrimoni applicativi abbiamo visto mobile first once only eccetera con tutti quei dieci items che abbiamo discusso prima abbiamo necessità di intervento e contemporaneamente gli hyperscaler i provider ci mettono a disposizione una cassetta degli attrezzi particolarmente performante insomma sembra che gli assi gli astri siano allineati però avete visto il titolo del convegno un cambio di passo che facciamo domani un cambio di passo dovuto all'emergenza ma la vera sfida è adesso effettivamente questo è il momento in cui è necessario andare oltre aver fatto quelle prime sperimentazioni aver consumato quei primi servizi in modo facile ma bisogna ragionare in termini di trasformazione vera cloud migration trasformazione applicativa quindi si deve iniziare a ragionare in un'ottica di medio e lungo termine perché anche questo è un altro dato importante dalle nostre ricerche questa è la survey sempre di quest'anno 2020 141 medie grandi imprese tra queste ci sono alcuni enti della pubblica amministrazione siamo andati a vedere ma quante ne avete già migrate e le avete costruite in modalità cloud native cioè hanno un'architettura microservizi sono basate su containers utilizzano tecnologie standard che quindi facilitano la portabilità dell'applicazione e utilizzano strumenti di orchestrazione e automazione ecco vedete che rimaniamo al di sotto del 10% quindi questa è un po' la prova del 9 siamo proprio all'inizio di questo percorso ne intuiamo però i benefici se vedete sulla destra è impressionante quali sono i benefici che vogliamo andare a perseguire utilizzando applicazioni cloud native quindi riconosciamo il valore abbiamo detto è certo così saremo più scalabili avremo applicazioni portabili faremo deployment e avremo applicazioni integrabili cioè proprio quei principi che stanno alla base del piano triennale di trasformazione della pubblica amministrazione quindi abbiamo intuito quali siano le potenzialità e siamo agli inizi di un percorso importante occorre effettivamente allora riflettere ma questo percorso è troppo complesso per poter proseguire perché non ci riusciamo ancora beh perché effettivamente ci sono è una nuova modalità di costruire un portafoglio applicativo quindi ci sono sono tematiche che vanno indirizzate in particolare se costruiamo l'insieme di servizi interoperabili servizi applicativi interoperabili come prescritto dal piano ecco che dobbiamo inevitabilmente essere in grado di orchestrare questi servizi cioè di ovviamente prima di tutto pensarli by design sicuri ma poi di governarli di integrarli e di gestirli in modo automatizzato ecco questa è una grande sfida quindi se quella piattaforma abilitante platform as a service ci a disposizione una cassetta degli attrezzi con solo alcuni attrezzi ma non questa complessità e noi ci troveremo adatto dell'art faremo insieme di tool di governance di automazione di integrazione di sicurezza che ci permettono di fare in modo semplice di utilizzarli in modo semplice allora sì questa è una sfida importante che richiede un mix di competenze diverso quindi non è tanto che puoi buttare sempre solo in un capitolato di gara la creazione di un silos applicativo ma devi invece avere competenze di governo cioè gestire tutta l'architettura che si trasforma che migra stiamo parlando di modernizzazione applicativa quindi tutta l'architettura del tuo patrimonio applicativo ovviamente tenendo in considerazione dei costi perché da comprare un progetto in questo caso si consumano servizi quindi da un investimento in conto capitale si tratta invece di consumare dei servizi in funzione del volume di utilizzo di questi servizi quindi ottimizzazione e gestione dei costi i progetti sono diversi vengono fatti in modo diverso già da CapEx diventano OPEX questo è già un elemento che cambia e quindi una gestione progettuale diversa una gestione contrattualistica diverso poi andiamo dall'altra parte in termini operativi in termini operativi parliamo effettivamente ad esempio di quanto è centrale il tema della sicurezza oppure parliamo di il tema della definizione di policy di utilizzo o di un percorso di mitigazione di rischi e poi effettivamente se abbiamo la possibilità di utilizzare una piattaforma che ci sgravi delle complessità della gestione operativa allora avremo più tempo per concentrarci sul vero obiettivo di trasformazione digitale che cosa vuol dire cioè allinearci con le esigenze delle funzioni delle linee di business se si parla di azienda o delle varie funzioni organizzative all'interno di Olente per dare la possibilità di costruire quei servizi mobile first quei servizi once only quei servizi con security by design che oggi vengono richiesti nel nostro piano strategico e quindi sviluppare delle skills che sono skills soft cioè lavorare nella progettazione di questi servizi devo dire che sul tema della competenza facciamo molte attività formative non è banale perché se le piattaforme e le tecnologie riescono ad arrivare ed evolvere molto molto rapidamente magari adesso sentiamo Andrea che ci dice la AWS quante release e quanti servizi vengono pubblicati mese per mese quindi effettivamente è una capacità di offerta tecnologica impressionante invece la crescita delle competenze delle persone a un ritmo più lento quindi è importante che queste piattaforme offrano realmente una semplificazione nei livelli di utilizzo in modo che sia semplice questo apprendimento continuo e inoltre è un po' il compito del mercato dell'offerta accompagnare gli enti in questa trasformazione non lasciandoli soli bene ho corso un po' per mantenere i ritmi e stare nei tempi previsti io sono arrivato in fondo vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto passo la parola Andrea Catalano Solutions Architect di AWS eccoci buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia a questo webinar sulla gestione dei containers in Amazon Web Services io sono Andrea Catalano sono un solution architect in Amazon Web Services Italia questo webinar è parte di un percorso il primo passo di questo percorso è quello di seguire una serie di webinar live in collaborazione con Forum PA nel periodo che va dal 15 settembre al 20 ottobre il secondo step vi dà la possibilità di accedere a un hub contenente una serie di contenuti che vi permetteranno di approfondire le tematiche affrontate nel primo step il terzo step sarà la possibilità di partecipare a Office Hour con dei solution architect approfondendo gli argomenti trattati negli step 1 e 2 vi permetterà di fare delle domande e quindi confrontarvi con i nostri esperti nell'incontro di oggi parleremo di containers come le architetture a microservizi sono diventate di attualità e come i containers agevolano questo processo inoltre guarderemo un po' più da vicino il nostro servizio AWS Elastic Container Service se avete delle domande sentitevi liberi di scriverle nella finestra delle domande qui accanto alla fine di questa sessione io insieme a un collega di AWS avremo modo di rileggerli e darvi delle risposte le aziende sono sempre più globali e i servizi offerti sono sempre più digitali cloud mobile big data e social hanno influenzato lo sviluppo delle applicazioni e come i cittadini interagiscono con esse tutto ciò costringe a un cambiamento ancora più veloce questa nuova normalità significa che i responsabili dei servizi devono unire il nuovo DNA digitale nella loro cultura processi e tecnologie per trasformarsi in organizzazioni agili e quindi hanno la necessità di innovare più rapidamente parto chiedendomi perché i containers lavoro con i containers docker dal 2015 ma prima ancora avevo già approcciato le tecnologie di containerizzazione nel 2012 se fate caso alle date è prima ancora che docker fosse pubblicato i containers infatti non sono una novità nella pratica il paradigma linux container dipende dalla capacità di containerizzazione del kernel linux queste capacità esistono da molto più tempo che docker rilasciasse la sua prima versione nel lontano 2013 ma entriamo nel dettaglio i container dipendono principalmente da due funzioni del kernel la prima sono i namespaces la seconda i cgroups cioè un'altra cosa sui containers che dovete sapere questa tecnologia permette di wrappare il vostro codice con le varie con le varie dipendenze rendendolo agnostico dalla versione del sistema operativo che lo ospiterà ma oggi sul mercato la tecnologia utilizzata per i container è docker quindi per partire un concetto molto importante è come è costruita un'immagine docker quando un container parte parte sempre da un'immagine le immagini sono salvate all'interno di un repository di immagini ad esempio il docker hub è il repository pubblico ufficiale di docker nel docker hub potete scaricare immagini e iniziare a usare immediatamente i containers oppure si può costruire la propria immagine un'immagine può essere costruita come estensione di un'altra immagine quindi tutto parte da un'immagine docker volevo farvi vedere come è possibile velocemente istanziare un container docker per farlo mi sono logato nella console AWS e avvio un servizio che si chiama cloud nine che è un ID gestito in AWS che vi permette di avere come nel nostro caso una shell unix disponibile per fare alcune operazioni oppure vi permette anche di fare sviluppo di web application per semplicità ce ne ho già una avviata qua in cui ho due shell disponibili in cui farò avvierò un container unix questo servizio cloud nine di default ha già un demone docker installato quindi potete eseguire comandi docker all'interno di questo ambiente una seconda cosa che vi voglio dire è che tutti i servizi che vedremo oggi sono disponibili nella region mxp quindi Milano che abbiamo inaugurato qualche mese or sono quindi tutti i servizi che vedremo oggi sono già disponibili sui vari data center dislocati nell'area metropolitana di Milano quindi tornando a docker è possibile eseguire un container docker specificando un semplice comando docker run passo qualche parametro che mi servirà successivamente e specificando il nome dell'immagine che voglio eseguire nel mio caso nginx nginx è un server http web che espone sulla porta 80 e un servizio http quindi questo container è stato eseguito c'è apro una seconda shell c'è un secondo comando che mi permette di vedere i container docker in esecuzione su questo su questo ambiente il comando docker ps vedo che c'è un container con l'immagine docker in esecuzione e la porta 80 è mappata sulla porta 99 999 di questo host ad esempio posso eseguire curl localhost porta 999 e mi risponderà questo web server quindi risponde risponde con welcome to nginx però questo è in questo modo io ho istanziato un container su questo ambiente di sviluppo questo era semplicemente per farvi vedere come è possibile distanziare container velocemente torniamo alla presentazione quindi quando eseguo un container esso viene eseguito allo stesso modo sul mio laptop in un ambiente di staging in produzione nel mio ambiente on premise o nel mio ambiente in cloud creo un'immagine una volta sola e la posso eseguire su tutti questi ambienti quindi ho la certezza che anche se ho costruito e sviluppato sul mio laptop funzionerà allo stesso modo in qualsiasi ambiente questa è una slide molto interessante che spiega le differenze fra virtual machine e docker forse l'avrete vista tante volte ma volevo focalizzare la vostra attenzione sulle differenze più sostanziali cosa differenzia le due tecnologie quando fai partire una virtual machine essa contiene un sistema operativo che deve essere inizializzato nei containers invece manca sistema operativo come detto precedentemente un containers contiene esclusivamente le librerie necessarie all'applicazione null'altro quindi quali sono i vantaggi della sua diffusione il primo viene un po' dalla definizione la portabilità essendo autonomo e atomico non mi devo più preoccupare del sistema operativo delle sue versioni delle varie librerie delle versioni della mia applicazione molto spesso quando parliamo di portabilità le problematiche sono nelle versioni delle librerie che la mia applicazione necessita il secondo grande vantaggio è la riduzione delle risorse che la mia applicazione necessita docker risulta molto più leggero di altre tecniche di virtualizzazione questo vuol dire minor richiesta di cpu e di memoria inoltre è in grado di avviarsi molto più velocemente rispetto a un sistema virtualizzato un sistema operativo virtualizzato impiega minuti per poter essere pronto dal momento del suo avvio nel caso invece dei containers sappiamo invece che possiamo raggiungere qualche centinaio di millisecondi come tempo di startup inoltre sono facilmente deployabili questo grazie alla atomicità in quanto tutto è contenuto in una singola immagine che io posso spostare velocemente da un server all'altro inoltre con docker questo recupero dell'immagine viene fatto automaticamente dal client docker cioè io non mi devo più preoccupare di scaricare l'immagine da un registry o da un repository questo viene fatto automaticamente dal demone docker il container è la base di molte architetture microservizi avviare un container quindi è molto semplice lo posso fare sul mio portatile posso realizzare metodi di sviluppo anch'essi sul mio portatile posso anche convertire macchine virtuali esistenti in containers tutti questi vantaggi fanno sì che inizia ad aumentare il numero di containers che ho e che devo gestire inoltre quando passo da monoliti ad architetture a microservizi ossia un servizio viene spacchettato in decine o centinaia di microservizi il numero dei miei servizi inizia a moltiplicarsi è a questo punto che iniziano a esserci problemi di manutenibilità e di difficile gestione questo in quanto non è semplice il fatto di dover allocare centinaia o migliaia di container su un singolo cluster di macchine vediamo insieme quali sono le maggiori sfide nell'adottare i containers e quindi beneficiare di tutto ciò che ho descritto fino ad ora il primo motivo è il cambio culturale nei team di sviluppo questo in quanto cambia anche il paradigma sviluppatori sistemisti in un paradigma DevOps lo sviluppatore è anche colui che svilupperà l'immagine dei containers docker questo se da un lato aumenta la complessità dall'altro aumenta drasticamente la possibilità di fare innovazione quindi è solo un problema culturale direi di no ci sono tanti vantaggi nell'adottare architettura containers ma vediamo qual è la sfida tecnologica gestire pochi containers è semplice hai un server con all'interno il demone docker sopra di esso si possono istanziare inizializzare uno o più containers che all'interno contengono l'applicazione e tutte le sue librerie ma quando il numero di containers inizia ad aumentare le difficoltà nella gestione di orchestrazione schedulazione monitoraggio sicurezza eccetera eccetera tutte queste tematiche iniziano a diventare di difficile gestione perché immaginate se uno di questi server va down cosa succede che i container inizializzati su quell'host muoiono e quindi devono essere istanziati su altre istanze di host in cui è presente il demone docker quindi tornando comunque a gestione prima la gestione è legata all'applicazione mentre con i container la gestione diventa il container io gestisco container non gestisco più applicazioni le applicazioni sono inserite all'interno di un container ma per portare in produzione tale container non è affatto non è una cosa affatto semplice ci sono molte cose di cui devo tenere conto devo tenere conto della sicurezza dello storage di quel container dei secret quindi le chiavi server discovery ossia come i vari container si parlano fra di loro configurazione di quei container il monitoraggio la supervisione di quei container come gestisco gli upgrade della piattaforma come a livello di networking parlano fra di loro i vari servizi la schedulazione di questi container quindi come detto prima ci sono molte cose di cui tener conto ed è qui che inizia ad aumentare la complessità a fine 2014 inizio 2015 sono state rilasciate molte tecnologie per la gestione dei container tale tecnologie permettono di semplificare la gestione di gruppi di containers ad esempio Docker Swarm è la piattaforma di orchestrazione di container di ufficiale di Docker Kubernetes Apache Mesos AshCorp Nomad sono altre piattaforme di orchestrazione poi in questa slide è raffigurato un'icona di AWS per i containers perché su AWS noi forniamo diverse piattaforme per la gestione dei containers fra di loro integrate che le vedremo nelle prossime slide negli ultimi due anni abbiamo assistito a una grande adozione di containers in produzione su AWS i nostri utenti attivi sono aumentati di oltre il 450% dal 2016 ad oggi e gestiamo milioni di stanze di containers ogni mese AWS consente a questi clienti di essere in grado di eseguire container su larga scala e infatti vediamo centinaia di milioni di container lanciati ogni settimana i nostri i nostri clienti adorano i servizi per i containers AWS perché non solo forniscono il set più ampio di funzionalità per la gestione delle loro applicazioni containerizzate ma è anche il luogo più semplice per eseguire i loro container i nostri servizi sono profondamente integrati con il cloud AWS in modo da ottenere tutti i vantaggi dalla sicurezza identity access management YAM che avete visto un po' Grazie a tutti. ...su un altro server, automaticamente la piattaforma di orchestrazione mi deploya quei container su altri server. Questo lo fanno le piattaforme di orchestrazione di containers, ma l'orchestrazione è solo una parte, perché all'interno della piattaforma è possibile integrarsi con quello che sono tutti gli altri servizi AWS. Ad esempio, come ho parlato in precedenza, application load balancer. Ad un application load balancer posso aggiungere un web application firewall che lavora su layer 7, quindi su protocolli HTTP e HTTPS, per aumentare la sicurezza. Ma posso far dialogare i miei servizi che erogano una cache, se ho necessità di avere container persistenti ho la possibilità di farlo. Posso integrare i miei container con servizi di database gestito, sia SQL che database no SQL, quindi la mia piattaforma è completamente integrata con tutti gli altri servizi AWS, molti dei quali avete già visto nei precedenti webinar. Ma non solo, la piattaforma per i container espone anche delle API. Perché questo? Perché è vero che io posso istanziare e gestire container dalla consola AWS, dalla command line, ma la piattaforma espone anche delle API. Questo in modo da poter integrare tutti i miei workflow di continuous integration, continuous delivery con questa piattaforma. Quindi un unico flusso che mi gestisce l'orchestrazione di tutta la piattaforma. I tipici use case per i containers sono micro servizi scritti in Java, JS, Go, web application, PHP, non importa quale linguaggio perché ormai esistono immagini docker per tutti i linguaggi di programmazione. Altri tipici use case sono la possibilità di stanziare servizi di continuous integration, continuous deployment, fare processi batch o ETL, migrare applicazioni in container e portandoli in cloud all'interno appunto di un container. Hybrid workload, ossia la possibilità di avere parte del workload on premise e parte del workload in cloud, fino ad arrivare a servizi per machine learning e intelligenza artificiale o fare load test. Load test è uno use case molto tipico da eseguire in cloud perché mi permette di scalare il mio load test quasi all'infinito e quindi vedere qual è il break even della mia applicazione, fino ad arrivare a back end per sistemi di IoT. Ma vediamo insieme quali sono le tecnologie per i containers che AWS ha rilasciato nel tempo, è stato reso generalmente disponibile. I clienti erano in grado di avviare attività su Elastic Container Server su istanze EC2 che vengono aggiunte a un cluster Elastic Container Service. Nel novembre 2017, quindi al Reinvent 2017, è stato lanciato la possibilità di un Fargate, la possibilità di utilizzare Fargate su Elastic Container Service, cioè i clienti sono in grado di eseguire containers senza preoccuparsi dell'infrastruttura del cluster sottostante, quindi istanziano solo containers e gestiscono solo esclusivamente containers. Nel giugno 2018 abbiamo lanciato Elastic Kubernetes Service, un cluster Kubernetes gestito. I clienti sono in grado di lanciare pod Kubernetes su istanze EC2, che queste istanze EC2 sono i worker node di un cluster Kubernetes. Nel dicembre 2019, quindi al Reinvent dello scorso anno, abbiamo lanciato la possibilità di utilizzare Fargate su Elastic Kubernetes. Container Service. I clienti sono in grado di eseguire pod senza dover creare o gestire l'infrastruttura dei worker node, quindi l'infrastruttura di un cluster Kubernetes. Si possono concentrare esclusivamente sui container. Dal 2014 AWS ha lanciato più di 50 nuove funzionalità e servizi per aiutare sviluppatori a creare e gestire meglio i propri container. La nostra missione è rendere AWS il posto migliore per creare ed eseguire applicazioni moderne. Il nostro obiettivo infatti è rimuovere la complessità che i vostri team devono affrontare nel gestire le risorse dei containers in cloud e anche per rendere più semplice l'ottimizzazione delle applicazioni esistenti. Ma andiamo a vedere il panorama dei servizi di container AWS, perché copriamo un'ampia gamma di prodotti. A livello di gestione e orchestrazione abbiamo Amazon Elastic Container Service e Amazon Elastic Kubernetes Service. Elastic Container Service è il nostro servizio di orchestrazione interno che molti clienti trovano facile da utilizzare grazie alle sue API e perché è integrato con tutti gli altri servizi e funzionalità AWS. Elastic Kubernetes Service semplifica la distribuzione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate utilizzando Kubernetes su AWS, la cui gestione non è affatto semplice. Puoi eseguire i tuoi container con il tipo di lancio EC2, in cui il cliente deve gestire il provisioning e la gestione dei stanze EC2 sottostanti, su cui sono in esecuzione i propri container, quelli che vengono comunemente chiamati di worker node, oppure puoi scegliere di eseguire i container in modo serverless con AWS Fargate. In questo caso il cliente si focalizza solo sul container, AWS pensa all'infrastruttura necessaria per erogarli. Inoltre a maggio 2020, anche se qui non è raffigurato, abbiamo con una collaborazione con Red Hat abbiamo annunciato la possibilità di istanziare Managed OpenShift su AWS, ancora non è disponibile ma lo sarà a breve. Forniamo anche un servizio di registry privato, Amazon Elastic Container Registry, in cui i clienti possono archiviare le immagini private dei propri containers. Da poco tale servizio permette anche di gestire template ELM. Inoltre forniamo due servizi per service discovery e service mesh, rispettivamente AWS Cloud Map e AWS App Mesh. Solo alcuni dati. Secondo una ricerca condotta da Nucleus Research, meno di un anno fa, l'80% dei container ospitati su cloud viene eseguito su AWS e l'82% di cluster Kubernetes ospitati in cloud gira su AWS. Clienti come Samsung, Expedia, KPMG, Godhead, Snap, scelgono di eseguire i propri container su AWS per la nostra sicurezza, affidabilità e scalabilità. Inoltre queste tre statistiche mostrano la velocità in cui i servizi container su AWS stanno crescendo e quindi come dicevamo insieme a Stefano la crescita è esponenziale. 150% di crescita anno su anno dei servizi container, una crescita di 10 volte in un anno nell'utilizzo di Elastic Kubernetes Service e 1,6 bilioni di immagini scaricate settimanalmente dal nostro registry, Elastic Container Registry. Ma entriamo un po' più nel vivo di uno di questi servizi. Elastic Container Service è un servizio di orchestrazione di containers altamente scalabile e ad alte prestazioni che ovviamente supporta Docker. All'interno di Elastic Container Service abbiamo le availability zone che sono quelle di AWS in cui possono essere deployati delle istanze EC2, all'interno di ogni istanza EC2 c'è il proprio sistema operativo, c'è l'agent Docker quindi il daemone Docker e l'agent Elastic Container Service. All'interno di queste istanze vengono deployati i propri container Docker. Quali sono i vantaggi di Elastic Container Service? Il fatto che è il servizio Elastic Container Service che gestisce il cluster management, l'orchestrazione dei container e mi permette di integrarmi con tutti gli altri servizi AWS che utilizzo ad esempio per le vieto machine, quindi security group, networking, VPN, file system persistenti, eccetera eccetera. Volevo farvi vedere degli use case e quindi come il servizio Elastic Container Service funziona nella pratica. L'utente crea un cluster in Amazon E6S. Il cluster sono solo delle informazioni dei metadati, non viene istanziato nulla a livello di servizi. Una volta istanziato il cluster viene istanziata una VPC, quindi un virtual private cloud. All'interno di un account AWS è già presente un virtual private cloud di default, quindi l'utente non necessita di istanziarne uno nuovo e all'interno di un cluster io posso avere più istanze EC2. Gli istanze EC2 sono quelle che mi permettono di deployare i miei container. Ogni istanze EC2 ha all'interno il demone docker e l'agent Elastic Container Service. Queste istanze sono all'interno di un security group. Security group per chi non conoscesse sono dei firewall di tipo stateful che permettono di aprire o chiudere determinate porte e protocolli in modo da aumentare la sicurezza chi può dialogare con queste istanze. Quindi l'utente cosa deve fare? A questo punto l'utente deve creare la propria immagine docker. Con un docker file può buildare, quindi può buildare, taggare e pushare la propria immagine docker in un registry docker, ad esempio nel Elastic Container Registry. Una volta che questa immagine docker è all'interno del registry, cosa deve fare l'utente? Deve creare un task definition. Il task definition cos'è? È anche qui dei metadati che contengono qual è l'immagine docker che voglio istanziare, quali sono le risorse CPU e memoria che voglio assegnare a questo task e altre informazioni come networking o se ho necessito di volumi persistenti eccetera eccetera. Inoltre devo creare un application load balancer se ad esempio voglio esporre questo servizio su web. Un application load balancer è un load balancer che opera a layer 7, quindi protocolli HTT e HTTPS. Questo mi serve perché nel momento in cui vado a creare un servizio devo specificare il task che voglio deployare, su quale application load balancer deve essere esposto a quel servizio, numero di task, quindi numero di container che devono essere deployati nel mio cluster e delle scaling policy che le vedremo nella slide successiva che mi permettono di impostare la scalabilità dei miei container. Una volta definito il servizio io devo deployare questo servizio sul cluster, quindi creo il servizio A sul cluster. Cosa succede? Succede che Elastic Container Server mi deploya i miei due container, quindi i miei due task perché avrò specificato nel task definition che ne volevo due, all'interno delle istanze EC2. L'istanza EC2 fa il pool dell'immagine docker dal registry Elastic Container Registry e la istanzia. Dopo averla stanziata espone questi container direttamente sull'application load balancer, quindi ad esempio se istanziamo un Nginx, quindi un server HTTP, la porto 80 sarà mappata dall'application load balancer. L'utente può collegarsi direttamente all'application load balancer e visualizzare i servizi esposti dal container. Cos'altro posso fare? Posso definire un DNS custom, magari facendolo gestire dal nostro servizio Amazon Route 53, che è un servizio di gestito di DNS, in modo che nel momento in cui l'utente scrive example.com nel suo browser accede direttamente al container all'interno del cluster Elastic Container Service. Vediamo adesso come posso ad esempio gestire l'autoscaling, quindi la scalabilità dei miei container. Ho deployato due container, quindi un task con all'interno due servizi e posso andare a specificare quelli che sono le scaling policy. Posso specificare delle scaling policy ad esempio che mi dicano nel momento in cui la CPU aumenta nell'utilizzo sopra il 50% istanzia un terzo task. La scaling policy appunto posso scrivere abbastanza, posso andare abbastanza nel dettaglio per scrivere come deve scalare la mia applicazione, in questo caso appunto scala di un task ogni volta che la CPU supera il 50% dell'utilizzo. Quindi cosa succederà? Che nel momento in cui la CPU supera il 50% un nuovo task viene istanziato. Questo task viene esposto anch'esso sull'application load balancer, quindi gli utenti che si collegheranno all'application load balancer il carico non verrà più bilanciato solamente sui primi due container, ma verrà bilanciato su tre container. Vediamo adesso come posso gestire il fatto di deployare più servizi all'interno di uno stesso cluster. posso andare a definire un secondo target group nel mio application load balancer da un servizio all'altro. Una volta definito un target load balancer devo esporlo, il numero di task e eventuali scaling policy. Una volta deployare questo cluster, vengono istanziati questi container, due container, che vengono esposti dallo stesso application load balancer. Come fa l'application load balancer a fare il routing verso il servizio A o verso il servizio B? L'application load balancer supporta il routing tramite path, quindi se scriverò example.com service A andrò sul container del servizio A, se scriverò example.com slash service B andrò sul container del servizio B. Vediamo infine come ECS funziona con il tipo di lancio EC2 e qual è la differenza con Fargate. Quando io gestisco Elastic Container Service con EC2, nel mio account io devo gestire la capacità computazionale, quindi le mie istanze EC2. Una volta che ho istanziato la mia capacità computazionale all'interno del mio cluster, posso dire a ECS puoi eseguire un container su EC2 per me e quello che succede è che il servizio Elastic Container Server istanzia questo container all'interno delle mie istanze EC2 e espone l'interfaccia di rete all'interno del... Cosa cambia con Fargate? Con Fargate cambia che all'interno del mio account io non ho necessità di dover gestire potenza computazionale, quindi la potenza computazionale è gestita direttamente da AWS, quindi all'interno del mio account io posso dire sempre Elastic Container Server, puoi istanziare un container utilizzando il profilo Fargate per me, quello che succede è che il container viene istanziato su un account AWS e questo container viene esposto con un'interfaccia di rete all'interno del mio Virtual Private Cloud, quindi a livello di funzionamento è uguale, cioè a livello di caratteristiche tecniche è uguale, l'unica cosa è che con Fargate io non mi devo preoccupare della gestione della potenza computazionale, ma mi preoccupo solamente di istanziare container con il profilo Fargate, qual è l'altra differenza? Che in un caso il modello di pricing è sulla potenza computazionale che ho istanziato all'interno del mio account, con Fargate io pago esclusivamente per le risorse CPU e memoria che stanno utilizzando i miei container, è anche per questo che quando parliamo di Fargate su AWS parliamo di container serverless. Per concludere, ricollegandomi a quanto detto da Stefano inizialmente, all'interno di AWS abbiamo diversi percorsi di training e certificazioni, abbiamo anche dei training specifici per quanto riguarda i containers, quindi se volete approcciarvi a questo mondo, al mondo dei container, il mio suggerimento è quello di visionare quelli che sono i training su AWS, molti di questi sono anche gratuiti, quindi all'interno del portale potete visualizzarli ed eseguirli gratuitamente come state visualizzando questo webinar. Io ho concluso, adesso guardiamo se ci sono delle domande in modo da indirizzarle. Intanto vi ringrazio per la partecipazione. Ok, grazie mille Andrea, abbiamo ricevuto due domande alle quali magari puoi rispondere anche con l'aiuto di Alessandro e alle domande a cui non faremo il tempo a rispondere oggi risponderemo via email. Vi lascio la parola. La prima domanda era che cosa sono i Kubernetes? Allora, Kubernetes è un orchestratore open source alternativo ad ECS, quindi i nostri clienti possono scegliere come orchestratore ECS piuttosto che Kubernetes, piuttosto che anche OpenShift, come ha detto Andrea. Su AWS è possibile avere ECS che è un servizio gestito, quindi avete un orchestratore Kubernetes ma gestito di AWS, quindi è l'orchestratore, lo stesso orchestratore open source però production ready, quindi già configurato in una configurazione in alta affidabilità per workload di produzione, allineato a quello che è il sorgente di Kubernetes ma gestito, completamente gestito di AWS per quanto riguarda la parte di orchestrazione. Anche con EKS è possibile avere sia la modalità di deploy su EC2 quindi sulle virtual machine piuttosto che la modalità di deploy serverless quindi Fargate, come ha fatto a vedere Andrea per quanto riguarda il caso ECS. Vedo che ci sono altre domande, rispondo ad un'altra domanda. In cosa differisce Elastic Container Service rispetto a Lambda? Elastic Container Service gestisce containers, quindi containers nel caso del profilo Fargate serverless, Lambda invece si focalizza sul codice, quindi codice serverless, voi vi focalizzate solamente sul codice, quindi con Elastic Container Service vi focalizzate sul container, l'unità è il container, Lambda vi focalizzate sul codice sorgente della vostra applicazione. Ok, poi c'è un'altra domanda. Componenti come Redis, ActMQ, se possono essere istanziati per esempio su Kubernetes. Allora, EKS è un vero e proprio cluster Kubernetes quindi potete utilizzarlo come utilizzate il cluster Kubernetes magari sull'on-prem, semplicemente gestito. Considerate che su AWS voi per questi servizi, sia per Redis che per quanto riguarda ActMQ, avete anche dei servizi gestiti per quanto riguarda questa parte, quindi avete la possibilità di scegliere se utilizzare, istanziare il vostro servizio sul Kubernetes oppure se volete utilizzare il servizio gestito per Redis, per Elastic Cache, piuttosto che per altri. Ho un'altra domanda, vedo se possono essere utilizzati i registri esterni per il download di immagini Docker. Assolutamente sì, i nostri servizi sia Elastic Container Service sia Elastic Kubernetes Service possono istanziare immagini che stanno nel registri privato, Elastic Container Registry o nel Docker Hub, quindi pubblico, o in altri registri, sia privati che pubblici, quindi può essere utilizzato qualsiasi registro di, qualsiasi registri di container Docker disponibili sul mercato o esposti via internet o anche privatamente tramite VPN nel caso qualcuno avesse un registri privato all'interno del proprio dataset che vuole esporre tramite una VPN. Ok, c'è un'altra domanda che riguarda come, diciamo, viene gestita la distribuzione dei server tra, diciamo, le varie variabili di zone. Allora, voi dovete considerare che nel momento in cui utilizzate ECS piuttosto che EKS, tutta la parte di orchestrazione è già ridondata su tutte le variabili di zone, quindi non avete più quel single point of failure che avreste o potreste avere se utilizzate una singola istanza. Per quanto riguarda la distribuzione del workload, il workload, ovviamente, se lo fate girare su un'istanza EC2, si porta dietro quello che è il legame con la variabili di zone che avete scelto, ma se volete anche una ridondanza cross variabili di zone, ricordatevi che potete utilizzare anche altri servizi, come per esempio IFS, quindi un file system distribuito che vi permette di avere i vostri dati ridondati su tutte le variabili di zone. Ok, vedo un'ultima domanda. Quando sarà disponibile OpenShift gestito su AWS? Abbiamo annunciato il servizio a maggio 2020, Red Hat e AWS, quindi noi, stiamo lavorando per renderlo disponibile il prima possibile. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento o eventualmente accedere a una beta, mi può contattare direttamente all'indirizzo mail che state visualizzando in sovraimpressione. Ok, perfetto. Grazie mille. Vi ricordiamo che alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere durante il webinar, potremo rispondervi via email successivamente. e vorrei ringraziare moltissimo i nostri speaker, quindi appunto Stefano e Andrea per essere stati qui con noi oggi e anche Alessandro Micco, appunto partner solution architect per AWS Worldwide, per averci aiutato a rispondere con le domande. Riuscite a sentirmi? a rispondere con le domande. a rispondere con le domande. Oh mio Dio. Sì, scusate, avevo perso la connessione riuscite a sentirmi volevo appunto ricordarvi che alla fine del webinar c'è appunto il sondaggio dove potrete indicare se desiderate o meno una prova gratuita su AWS dopo la serie di webinar in qualità di partecipanti riceverete l'accesso al self study hub dove troverete materiali di approfondimento come video demo sulla AWS console nella nuova regione AWS Europa-Milano nell'ultima fase potrete prenotare uno slot durante le office hours con esperti AWS inizia ora il sondaggio dove appunto potrete indicare se desiderate una prova gratuita non vediamo l'ora di vedervi il prossimo martedì riceverete inoltre tutte le registrazioni e le slide dei webinar alla fine della serie quindi dopo l'ultimo webinar vi ringraziamo moltissimo per la partecipazione vi auguriamo una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti